Che cos'hanno? È tutto il giorno che sono agitati. Abbiamo fatto una scoperta straordinaria e preoccupante. Ricorda quello che lei ha detto a Nuova Delhi riguardo alla fusione dei poli che potrebbe fermare la corrente nord-atlantica? Sì. Credo sia già avvenendo. Attraverseremo un'area di forte turbolenza. Abbiamo davanti stradi numerosi insolitamente alti. Per favore rimanete... Tutto bene? Ha paura di volare? Il governo deve adottare misure a lungo termine da ora. Jack, la tua è solo una teoria. Sono tre giorni che non smette di piovere. Signor vicepresidente, o reagiamo ora o sarà troppo tardi. Ho paura che siamo fuori tempo massimo, Jack. Che possiamo fare? Salvare più vite possibile. Il peggio deve ancora venire. Che dobbiamo fare? Verrò io a prenderti. Mi hai sentito bene? Non è? 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 È? Non 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 è? Inolio ins bewusstare forti il corpo che è più오 plus alta quindi siassero è più Phoenix.